indagine su traffico illecito di rifiuti in quattro agli arresti domiciliari sit-in di caltanissetta sicura dinanzi al comune il martedì grasso a caltanissetta fervono i preparativi caltanissetta incontro con la scrittrice catena fiorello la nissa conquista tre punti pesanti contro il castellammare ora la zona play out è più lontana ben trovati indagine su un traffico illecito di rifiuti in quattro agli arresti domiciliari lo scorso 10 febbraio i carabinieri della compagnia di caltanissetta unitamente al personale della sezione ambiente e sanità della procura della repubblica nissena hanno eseguito nell'ambito delle indagini preliminari un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di quattro soggetti residenti a sommatino e delia a carico dei quali il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla costituzione di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti il provvedimento trae origine da un'ampia articolata attività investigativa iniziata nel 2021 con il coordinamento della procura della repubblica di caltanissetta che avrebbe consentito di individuare una presunta attività organizzata di raccolta e stoccaggio di un'ingente quantità dei rifiuti di diverso genere in un'area di circa 3.000 metri quadrati nel comune di sommatino e in un deposito nel comune di delia in particolare gli indagati avrebbero operato al fine di trasformare siti soprandicati in vere e propri depositi non autorizzati per lo smaltimento gli investigatori hanno analizzato la modalità di raccolta dei rifiuti consistenti nel rifiuto urbano i rifiuti speciali rifiuti urbani pericolosi tra cui arredamenti elettrodomestici e autovetture destinata alla rottamazione che giornalmente gli interessati ritiravano o ricevevano da privati e aziende del territorio continua così l'attività repressiva dell'arma dei carabinieri verso i reati ambientali che dalle evidenze investigative risultano sempre più frequenti nell'ottobre del 2022 a Dele e Bonpensiere sono stati deferiti in stato di libertà due persone titolari rispettivamente di un'azienda ortofrutticola ed un'impresa edile per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata con il conseguente sequestro di due aree rispettivamente di 1.700 metri quadrati di superficie e 2.500 metri quadrati mentre nel novembre del 2022 sono stati tratti in arresto sei persone appartenenti al medesimo nucleo familiare destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per aver creato in un'area demaniale destinata ad ospitare la stazione ferroviaria del comune di Sommatino una discarica abusiva controlli a Gela due giovani non si fermano all'alt della polizia la polizia di stato ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un ragazzo di 21 anni di Gela indagato in concorso con un minore di 18 anni per i reati di porto di arma da fuoco clandestina ricettazione e più furti aggravati gli agenti del commissariato di Gela in provincia di Caltanissetta nel corso delle indagini preliminari hanno eseguito l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP presso il tribunale di Gela su richiesta della procura della repubblica nei confronti di un 21enne per i reati di porto di arma clandestina con matricola a brasa ricettazione della stessa e diversi furti aggravati in particolare nel novembre dello scorso anno la polizia di stato nel corso dei servizi di controllo del territorio ha notato due giovani con il volto travisato da una maschera identica a quella utilizzata dai personaggi di una nota serie tv a bordo di un ciclomotore privo di targa transitare nei pressi del centro storico di Gela senza fermarsi all'alt da parte della polizia subito il passeggero ha estratto un fucile a canne mozze e lo ha puntato contro gli agenti all'inseguimento nel corso della fuga nel centro urbano uno dei due ragazzi ha buttato via l'arma intanto i due sono riusciti a dileguarsi tra le vie del centro facendo perdere le proprie tracce dopo un'articolata attività di indagine coordinata dalla procura della repubblica di Gela la polizia è riuscita a catturare il 21enne e in seguito all'interrogatorio è stato posto al regime degli arresti domiciliari a Ravanusa un giovane ferito da un fendente durante i festeggiamenti del carnevale un ragazzo di 16 anni è finito all'ospedale dopo essere stato accoltellato durante una lite nel centro di Ravanusa in provincia di Agrigento mentre era in corso la manifestazione per il carnevale per fortuna il 16enne non sarebbe in pericolo di vita i carabinieri della stazione di Ravanusa stanno cercando di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto per comprendere cosa abbia innescato la lite e individuare i protagonisti secondo una prima ricostruzione il ragazzo avrebbe ricevuto una coltellata nel lato destro del torace subito è stato medicato dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Canicattì dove è attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia. Manifestazione di Caltanissetta sicura dinanzi a Palazzo del Carmine Sabato mattina davanti al comune di Caltanissetta si è svolto un sit-in organizzato dall'associazione Caltanissetta sicura guidata dai loro rappresentanti Sergio Cirlinci, Rita Capraro e Adriana Marotta Il nostro obiettivo è quello di puntare gli occhi sulla sanità locale poi chiaramente è venuto fuori anche il discorso politico perché in questi giorni è il tema principale poi sono venuti fuori tante altre problematiche per quanto riguarda la città mi ha fatto piacere l'intervento di alcune associazioni che hanno esposto le loro problematiche come al solito non c'è stata una grossa affluenza di cittadini perché purtroppo sappiamo che spesso e volentieri non avevano partecipare però è stato un sit-in abbastanza di qualità per le persone intervenute ma gli interventi sono stati molto precisi, puntuali e a noi alla fine interessa questo Giuseppe Licata, un nisseno eletto consigliere regionale in Lombardia Il sindaco di Lozza Giuseppe Licata ha concluso positivamente la sua avventura da candidato al Consiglio regionale della Lombardia rientrando tra i sette eletti nella provincia di Varese il 45enne di origini siciliane nato a San Cataldo ha anche vissuto a Caltanissetta dove ha frequentato il liceo scientifico, una lunga carriera politica alle spalle per l'ingegnere informatico che da anni vive in Lombardia lavorando in prefettura e ha anche conseguito un master in organizzazione e innovazione nella pubblica amministrazione. Giuseppe Licata, al secondo mandato da primo cittadino nel comune Lombardo, nonché coordinatore provinciale di Italia Viva, ha rivestito anche il ruolo in provincia di consigliere occupandosi di politica del lavoro, bandi europei, digitalizzazione e bilancio, così come si precisa nella sua biografia online Sono molto soddisfatto della mia elezione in regione Lombardia, frutto del mio lavoro politico in questi anni da sindaco, da consigliere provinciale ma anche di un gruppo di persone che mi hanno che hanno sostenuto, la mia candidatura è un progetto politico Adesso per me comincia un percorso nuovo ma con l'obiettivo di sempre che è quello di fare delle cose concrete per i cittadini e per il territorio Sento anche un'emozione in più da Nisseno, sento la responsabilità e anche l'orgoglio di rappresentare in qualche maniera la sicilianità Spero di farlo nel migliore dei modi Asp di Caltanissetta, Luciano Fiorella è il nuovo direttore sanitario Luciano Fiorella è il nuovo direttore sanitario dell'Asp di Caltanissetta ruolo ricoperto fino a poco tempo fa da Marcella Santino Direttore di presidio dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela è stato nominato dal direttore generale Caltagirone che in una delibera dichiara che l'ingarico dato a Fiorella è fondato sul rapporto di fiducia e che con quest'ultima figura è strettamente correlato specie per funzioni, responsabilità e obiettivi da raggiungere Luciano Fiorella sarà direttore sanitario dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta sino alla cessazione dell'incarico dell'attuale commissario straordinario Covid nel Nisseno, 36 positivi nell'ultima settimana 15 a Caltanissetta, 13 a Gela, 3 a San Cataldo Negli ultimi sette giorni nella provincia di Caltanissetta sono stati riscontrati 36 casi di positività al Covid-19 tutti in isolamento domiciliare 15 pazienti di Caltanissetta, 13 di Gela, 3 di San Cataldo 1 di Butera, 1 di Mazzarino, 1 di Mussomeli, 1 di Serra di Falco e 1 di Niscemi sono stati ricoverati in degenza ordinaria 4 pazienti di Caltanissetta 2 di Gela, 1 di Niscemi, 1 di Sutera e 2 provenienti da fuori provincia mentre dimessi dalla degenza ordinaria sono 2 pazienti di Caltanissetta 2 di Gela, 1 di San Cataldo e 1 proveniente da fuori provincia è deceduto purtroppo un paziente a Caltanissetta che era stato riscontrato positivo al coronavirus i guariti sono invece 91 pazienti di Caltanissetta 78 di Gela, 46 di San Cataldo, 23 di Niscemi 14 di Mazzarino, 14 di Vallelunga Pratameno 12 di Mussomeli, 9 di Riesi, 9 di Serra di Falco 6 di Butera, 6 di Villalba, 4 di Sommatino 3 di Campofranco, 3 di Delia, 3 di Marianopoli, 3 di Santa Caterina Villarmosa 3 di Milena, 2 di Sutera, 2 di Acquavio a Platani e 1 di Montedoro Il martedì grasso a Caltanissetta parla il presidente della Proloco Luca Miccichè È tempo di maschere, coriandoli e stelle filanti durante il carnevale grandi e piccini si divertono nell'indossare costumi abiti che permettono loro di medesimarsi nei personaggi preferiti tratti dal mondo dei cartoni, dei film o da quello reale sono giorni di feste, di risate accompagnate anche da qualche dolce tipico e in città sono state organizzate diverse iniziative per festeggiare questo periodo e così anche il martedì grasso, l'ultimo giorno di carnevale che precede il mercoledì delle Ceneri in centro storico ci sarà un evento che punterà al divertimento, soprattutto per i bambini Carnival Party 2023, giorno 21 febbraio alle 17.30 la Proloco di Caltanissetta insieme al Comune offrono un intero pomeriggio di divertimento dedicato ai bambini e alle famiglie ci saranno dei gonfiabili, gallerie mirati, sfilate tanti giochi, tanta musica, tutto dedicato ai bambini e al loro divertimento sarà l'ultimo giorno di carnevale, martedì grasso quindi chiuderemo un po' in bellezza questa serie di eventi di carnevale che già si stanno svolgendo proprio in centro storico A Caltanissetta incontro con la scrittrice Catena Fiorello Grande accoglienza ed emozione per Catena Fiorello scrittrice, autrice e conduttrice televisiva sorella di Rosario e Beppe Fiorello rispettivamente showman e attore che domenica 19 febbraio ha incontrato a Caltanissetta i lettori e firmato le copie del suo nuovo romanzo Ciatuzzo Ciatuzzo parla di vari tipi di separazione separazione dovuta a un avvio fisico la morte della mamma del protagonista quando lui ha nove anni e si chiama Nuzzo e poi un'altra separazione che avviene quando lui un anno e mezzo dopo ha circa dieci anni e mezzo più o meno, sì, dieci, dieci anni e mezzo e deve raggiungere il padre in Belgio perché ormai in Sicilia non può più rimanere con i nonni e quindi deve andare lì, da un'altra parte lontano dalla sua terra i temi della separazione e lontananza sono spesso presenti nei libri della Fiorello il comune denominatore è delle separazioni della lontananza che potremmo anche chiamare emigrazione chiunque si trovi nella condizione di emigrare deve lasciare un posto a cui è legato e deve affrontare l'ignoto e non è facile altro tema sempre presente è quello della donna per questo motivo dal 2020 firma i suoi romanzi Catena, Fiorello, Galeano Galeano è il cognome della madre parlo tanto di donne, di tematiche legate al mondo femminile che poi però è anche quello maschile e quindi mi sembrava giusto proprio omaggiare la figura femminile per eccellenza della mia vita, mia madre l'autrice ha già in cantiere un nuovo romanzo sicuramente il nuovo romanzo che pubblicherò sarà il terzo volume della saga delle signore di Montepepe ovvero le signore degli arancini, dei cannoli questa volta le ritroviamo con un'altra specialità della gastronomia o della pasticceria, non si sa, siciliana potrebbe essere la caponata, potrebbe essere la granita ma poi noi abbiamo talmente tante specialità che questa saga potrebbe non finire mai Fai, i luoghi del cuore, la provincia di Caltanissetta torna protagonista con la Torre di Manfria la Torre di Manfria è al settimo posto tra i dieci siti siciliani più votati il capodelegazione Fai, Fondambiente Italiano di Caltanissetta Giulia Carciotto esprime la propria soddisfazione per l'esito del censimento, i luoghi del cuore il sito infatti ha ottenuto 4.447 voti sono numerosi però i luoghi in giro per la provincia che negli anni sono riusciti a rientrare nell'elenco dalla cappella di San Marco a Sutera al castello manfredonico di Mussomeli o ancora il villaggio Monte degli Olivi a Riesi le mura Timoleontea, Gela e per Caltanissetta il castello di Pietrarossa la biblioteca Scarabelli e la bazia di Santo Spirito promuoviamo forme di relazione con l'ambiente e con i luoghi tenendo conto dei bisogni dell'aspirazione e delle opportunità della comunità afferma Giulia Carciotto, capodelegazione Fai Caltanissetta in questi anni ci siamo concentrati su attività di conoscenza e di valorizzazione tessendo reti virtuose con istituzioni culturali e territoriali al fine di avere una fruizione e un'esperienza costruite sulla reale conoscenza del territorio nel comunicato della delegazione di Caltanissetta viene ricordato anche il comitato Viviamo Manfria motore e promotore della raccolta firme un pensiero a Giovanni Cacioppo testimoni all'eccezione ricordato anche l'impegno dei volontari dei giovani e della delegazione del Fai e le amministrazioni comunali della provincia e in particolare i sindaci dei comuni di Caltanissetta Mussomeli e Gela Real Mestranza 2023 le categorie Muratori e Carpentieri rinnovano le cariche in vista della prossima settimana santa Proseguono i rinnovi delle cariche nelle categorie della Real Mestranza per il 2023 la settimana scorsa infatti e cioè lunedì 13 febbraio l'associazione Unione Muratori si è riunita in assemblea per procedere all'elezione in vista delle prossime processioni la seduta preseduta dal presidente della categoria Gianni Taibbi nonché gran cerimoniere della Real Mestranza ha visto la nomina del nuovo portabandiere il 64enne Filippo Palermo assegnate anche le cariche di Elabardiere al 20enne Michele Sanicola e portabaldacchino al 45enne Angelo Pesce qualche giorno dopo anche la categoria Carpentieri Ferraioli ha proceduto all'elezione delle nuove cariche in questo caso l'assemblea del 15 febbraio è stata preseduta dal presidente Giuseppe Tuminelli attuale presidente anche dell'associazione Real Mestranza per il 2023 dunque sarà il maestro Michele Infantino di 67 anni il portabandiere della categoria il giovane 15enne Andrea Santoro che sfida in processione da quando ne aveva 5 sarà l'Ela Bardiere mentre il 25enne Giuseppe Montalbano il portabaldacchino Pericolo di Coppia ma siccia presenza di pubblico al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanisset Grande successo venerdì sera per lo spettacolo Pericolo di Coppia andato in scena al Teatro Rosso di San Secondo commedia scritta da Marco Cavallaro per la regia di Antonello Capodici sul palco il triangolo notrio al secolo Alessandra Falci Michele Privitera e Sandro Rossino commedia surreale piena di risate dove sono andate in scena vari sketch di coppie dall'età della pietra sino ai nostri giorni Finalmente abbiamo debuttato nella nostra città con questo nostro spettacolo tanto diciamo vissuto in fase di realizzazione la produzione del triangolo notrio con i miei colleghi amici Sandro e Michele siamo felici del risultato ottenuto perché nonostante la fatica e l'ansia che c'è sempre prima di uno spettacolo ma a maggior ragione in questo che comunque è molto tecnologico ecco chiamiamolo così siamo felici del risultato ottenuto dato dalle risate dagli applausi del pubblico pubblico numeroso teatro quasi pieno quindi una soddisfazione anche vedere tutta questa gente ritornare a teatro è sempre bello avere un teatro se non pienissimo quasi è sempre una bellissima emozione a maggior ragione quando si debutta con uno spettacolo nuovo e tra l'altro dopo un po' che il trio non debuttava con spettacoli nuovi l'emozione naturalmente era triplicata però il risultato sembra essere stato di gradimento del pubblico e quindi questo ci dà tantissime soddisfazioni e adesso partiremo con una serie di date in giro per la Sicilia la pagina sportiva calcio San Cataldese ritorno alla vittoria contro il Real Aversa al Valentino Mazzola è stata una dolce domenica quella vissuta dalla San Cataldese grazie alla preziosa vittoria contro il Real Aversa per 2 a 0 la squadra di Infantino doveva tornare alla vittoria e così è stato tre punti fondamentali per il percorso verso la salvezza che consentono a Everde Amaranto di raggiungere 34 punti in classifica il protagonista del pomeriggio allo stadio Valentino Mazzola è stato l'attaccante Bonanno in stato di grazia che con la sua doppietta ha steso il Real Aversa sempre più nella zona calda della classifica con soli 24 punti è stata una domenica interlocutoria nel girone I con soltanto tre vittorie esterne Trapani-Corsaro in casa della Mezzia Terme mentre in coda la Mariglianese tiene in vita la Speranza superando il Castrovillare a domicilio questi i risultati della 24esima giornata del campionato di serie D girone I Castrovillari Mariglianese 0 a 1 Acireale-Santa Maria-Cilento 2 a 0 Cittanovese-San Luca 0 a 0 La Mezzia Terme-Trapani 0 a 1 Locri-Catania 0 a 4 Paternovi-Bonese 1 a 0 Canicattì-Ragusa 0 a 0 Città di Sant'Agata-Licata 3 a 0 San Cataldese-Realla-Versa 2 a 0 La classifica vede sempre il Dominio del Catania a 63 punti Seguellocri a 46 Città di Sant'Agata 45 La Mezzia Terme 39 Poi Trapani-Elicata 38 Vibonese-San Cataldese a 34 punti Canicattì 33 Santa Maria-Cilento 31 Ragusa 27 Città di Acireale 26 Castrovillari 26 San Luca 25 Real Aversa 24 Cittanovese 22 Paterno 21 Chiude la Mariglianese a 17 punti Campionato di eccellenza La Nissa conquista tre punti pesanti contro il Castellammare Ora la zona play-out è più lontana La Nissa ritrova la vittoria dopo un periodo di crisi Ma quando ha fatica per battere il Castellammare al Tomaselli Prima mezz'ora contratta da parte delle due formazioni Con poche occasioni da gol e due portieri inoperosi Partita che si sblocca al trentesimo Con un'azione corale da parte di Sacco Che riesce a sbloccare la partita E dare alla Nissa la carica necessaria Il finale di Tembo si chiude prima con la traversa di Di Biase Colpita su calcio di punizione E poi con il rosso dato al centrocambista del Castellammare Priola Per somma di ammunizioni Nella ripresa con l'uscita di Sacco La Nissa non riesce a mordere a metà campo E il Castellammare in dieci riesce a impadronirsi della gara E fare paura ai padroni di casa Che sprecano tre palle gol nitidissime Due volte con Esposito prima E con Faramarna successivamente Nel finale di gara Arrembaggio degli ospiti E Biancoscudati che vengono salvati da D'Amico Che con tre parate salva risultato Riesce a regalare tre punti importanti alla Nissa E riscattare il gol subito da metà campo Domenica scorsa contro la Mazzarese Noi siamo tutti uniti Un gruppo unito Un gruppo compatto Poi l'abbiamo dimostrato pure in campo L'abbiamo sofferto assai Però ci siamo sempre aiutati in campo Fuori dal campo siamo una famiglia Pensiamo a Giela che è domenica prossima Pensiamo a prendere i tre punti Sappiamo che sarà una parte difficile Una parte combattuta Giocando pure loro dentro la casa Avranno tutto a favore Però noi andremo là per prendere i tre punti Questo è l'importante per noi Poi dopo Giela pensiamo alle altre partite È stata una partita difficile Ma ce l'aspettavamo Era obbligatorio vincere Abbiamo vinto Io penso di aver fatto solo il mio dovere Niente di più E alla fine l'importante è fare il tesoro Dei propri errori E reagire bene Come spero e penso sia stato Sono tre punti assolutamente per ripartire Per andare più forte di prima Di questi risultati che comunque ci sono molto stretti E ora comincia un altro cammino Un'ingenuità che non doveva succedere Ci ha costretti a giocare Buona parte di partita in dieci Abbiamo provato a giocarcela comunque Concedendo gli spazi per il raddoppio È venuta fuori una partita aperta Dove la Nissa poteva raddoppiare Ma noi abbiamo sprecato troppo Dovevamo assolutamente segnare È un problema che ci portiamo avanti Da un po' di tempo Ed è il motivo per cui Stiamo scendendo qualche posizione in classifica Dobbiamo riprendere il cammino Che avevamo 6-7 partite fa A ritrovare fiducia Adesso è un momento delicato Però ci sono tutte ancora le condizioni Per poterci salvare Eccellenza Girone A 22esima giornata Acragas Parmonbal 3-0 Casteldaccia Mazzarese 2-4 Leonfortese Cuspalermo 0-0 Mazzara Nuova Città di Gela 2-1 Nissa Castellammare 1-0 Oratorio San Ciro e Giorgio Profavara 0-2 Resuttana Enna 0-2 Sciacca Don Carlo Misilmeri 1-1 La classifica Enna 54 Acragas 52 Profavara 48 Don Carlo Misilmeri 41 Mazzarese e Mazzara 38 Sciacca e Casteldaccia 35 Nissa 28 Oratorio San Ciro e Giorgio 25 Leonfortese 24 Castellammare 18 Resuttana 17 Nuova Città di Gela 16 Cuspalermo 15 Parmonval 8 Basket serie D invicta vittoriosa al Palacanizzaro 12esima affermazione stagionale consecutiva Con il risultato di 78 a 65 l'invicta batte al Palacanizzaro la formazione palermitana della Leonardo da Vinci e chiude la stagione regolare con la dodicesima vittoria consecutiva in campionato e si proietta mentalmente al playoff. Partita mai in sofferenza per i cestisti nissene guidati dal coach Giuseppe Spena che hanno offerto al loro pubblico un'altra prova di forza schiacciante avendo sempre in mano la gara per tutti e quattro i tempi. Adesso la stagione bianco-rossa continua col playoff obiettivo stagionale raggiunto con la voglia di sognare in grande. Abbiamo portato avanti questa cavalcata mantenendo l'imbattibilità era importante soprattutto la trasferta di Capo d'Orlando dove è stata una partita molto sofferta e poi questa sera ci siamo riconvermati tra le mure amiche mettendo in campo sin da subito Antonio Palermo del 2006. E voglio sottolineare anche l'ingresso di Martiala China che è stato un ingresso molto molto sprint, è entrato da veterano, ci ha dato punti importanti in un momento dove Palermo non rinunciava a cedere alla nostra compagina. Voglio ringraziare il pubblico che stasera è stato molto caloroso come dall'inizio del campionato vedo sempre più persone, vedo la squadra sempre più seguita. Ringrazio a nome della società tutto il pubblico che ci segue veramente è una bella cornice. Praticamente ci troviamo dove volevamo essere, non ci aspettavamo di concludere il campionato con 12 vittorie di fila però sapevamo che sarebbe stato un campionato diverso, migliore rispetto a quello dell'anno scorso. E il campo ha dato conferma di questo. Ora resettiamo tutto e inizia il vero campionato. Ora ci sono delle partite molto toste, quindi aspettiamo la prossima, fra due settimane. Da due settimane, adesso quindi è presto al pre-hop, quindi vi aspettate di incontrarlo. Molto probabilmente incontreremo Sant'Agata se rimane in questo modo la classifica. Basket, serie D, girone B, quattordicesima giornata. Basket Messina, Sant'Agata, 52 a 65. Virtus Trapani, capo basket, 71 a 87. Invicta, Leonardo Da Vinci, 78 a 65. Riposa, Zanella Cefalù. La classifica. Invicta, 24. Zanella Cefalù e capo basket, 16. Sant'Agata, 14. Leonardo Da Vinci, 6. Virtus Trapani, 4. Basket Messina, 2. Volle in serie B2 femminile, l'Alba Verde Caltanissetta si impone a pedara. L'Alba Verde rispetta il pronostico di vittoria contro il fanalino di Coda Planet e ritorna da pedara con la vittoria in tasca per 3-7 a 0. La formazione nissena si gode il ritorno al successo in trasferta dopo un'anomala astinenza e continua a tenere il passo delle prime della classe Zafferano e Pallavuolo Crotone. Dopo un primo set dominato è seguito un secondo parziale in cui le nissene hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco. Il terzo set sembrava inizialmente svolgersi sulla falsariga dei precedenti, ma la formazione catanese ha tenuto testa alle pallavoliste nissene che alla fine hanno portato a casa il terzo e ultimo set e l'intera posta in palio. Appuntamento adesso a sabato 25 febbraio quando al pala Cannizzaro l'Alba Verde incontrerà la Gioiosa. La classifica Zafferana 41 Pallavuolo Crotone 38 Alba Verde 37 Fidelis Torretta 34 Procori Ericina 33 Gioiosa 30 Cuscatania 27 Saragena 25 Volley Region 21 Funivia Etna 18 Bricositi 13 Stefanese 8 Ardenz Comiso 7 Chiude Planet 4 E tutto vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità. Grazie per l'attenzione. Appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesso anticiclonico per la giornata di martedì sul nostro territorio ma infiltrazioni umide apporteranno una maggiore nuvolosità che sarà concentrata lungo le regioni tirreniche e a tratti anche al nord. Non solo nelle ore più fredde della giornata quando sulla pianura padana segnalo banchi di nebbia e nubi basse ma anche qualche annuvolamento che transiterà proprio nel corso della giornata. Per quanto riguarda le precipitazioni saranno praticamente assenti ancora una volta sul nostro territorio. Si aggrava infatti ancora una volta la situazione siccità al nord per l'assenza di precipitazioni. Da segnalare solo qualche possibile goccia di pioggia tra Liguria e Toscana. In definitiva la giornata di martedì sarà caratterizzata ancora una volta da clima mite con massime oltre la media, punte anche di 17-19 gradi, contesto di stabilità atmosferica con una maggiore nuvolosità da segnalare sul versante tirrenico, sulla pianura padana tratti anche nel corso del giorno, altrove invece maggiori schiarite. Tutti i dettagli come sempre sull'app di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno, Vizzini, Viale Trieste Servizio notturno, La China, Via Fraggia Ratana